Benvenuti al nuovo appuntamento del TGLIS del Consiglio regionale della Basilicata. Ho sposato con convinzione l'idea che combattere lo spreco alimentare fosse giusto, un convincimento che ha animato il mio impegno istituzionale fino alla promulgazione della legge della regione Basilicata del 2015 numero 26, così il Vicepresidente del Consiglio Polese di Italia Viva per il quale ancora molto c'è da fare. Noi, conclude, ci siamo e continueremo su questa strada fatta di idee e impegno concreto. Fondamentale un'azione congiunta di istituzioni, scuole e famiglie per promuovere attività di sensibilizzazione a partire dalla formazione dei docenti. Lo ha evidenziato la Presidente della Commissione Pari Opportunità per Retti in occasione della giornata nazionale contro bullismo il 7 febbraio. I ragazzi, oltre ad un uso consapevole dello smartphone e degli altri dispositivi, ha detto, devono interiorizzare i valori della legalità, della dignità delle persone, del rispetto della fragilità e diversità, valori alla base della convivenza civile. Interrogazione del capogruppo del Partito Democratico Cifarelli, il quale chiede a Bardi e a Leone chiarimenti sull'utilizzo del fondo regionale istituito nel 2018 che garantiva la gratuità delle prestazioni di medicina sportiva per tutti gli atleti che esercitano attività non agonistiche ed ora per gli atleti che svolgono attività agonistica dilettantistica che, guariti dal Covid-19 per ritornare a svolgere l'attività sportiva, si sottopongono ad una ulteriore visita medica, il cosiddetto return play. Sullo studentato di Matera, l'assessore Merra, ad ottobre 2021, annunciava lo sblocco dell'opera e l'inizio dei lavori. Qualcosa deve essere andato storto perché, a tre mesi dall'annuncio della solerte componente della Giunta, i lavori sono ancora fermi e lo scheletro dello studentato è ancora ben lontano dall'essere completato. Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Perrino, che aggiunge, ci auguriamo che si metta fine agli annunci roboanti e si proceda al completamento di un'opera che potrebbe dare alla città di Matera un nuovo asset di sviluppo. A nome di tutta la Lega Basilicata, il vice coordinatore consigliere Zullino ha dato il bentornato al consigliere Viziello. C'è, ha detto quest'ultimo, chi ha fatto dell'integrità e della coerenza un valore in cui mi ritrovo appieno, anche a scapito delle proprie posizioni. Per Zullino i partiti politici ed il consiglio tutto devono tornare al loro ruolo più nobile e legittimo e per la Lega di Matteo Salvini la politica e formazione, serietà e buona amministrazione. Per le aree interne sono in arrivo dal PNRR 500 milioni di euro per servizi e infrastrutture sociali di comunità, come annunciato dalla ministra per il Sud e la coesione territoriale Carfagna. Lo dichiara il consigliere del Partito Democratico Pittella, per il quale è indispensabile che la regione convochi un tavolo delle autonomie per costruire un piano d'azione e per discutere della richiesta del Governo centrale sulla possibile individuazione di nuove aree. Ci sono risorse e tanto lavoro già avviato da recuperare con intelligenza per non sfumare occasioni. Una targa commemorativa al ricordo delle vittime delle foibe, apposta sulla colonna d'ingresso del Palazzo del Consiglio regionale. Così il Consiglio regionale ha voluto commemorare il giorno del ricordo. L'iniziativa ha visto la partecipazione del Presidente Cicala, del Prefetto di Potenza Campanaro e della Presidente della Commissione Pari Opportunità per Retti, apposta anche una pietra di un ciampo dinanzi al portone della sede, a perenne memoria delle vittime della Shoah. È tutto, grazie per l'attenzione, l'appuntamento e per la prossima edizione.